rock hall ragazzacci ciao a tutti auguri buon compleanno festeggiatelo bene divertitevi vi auguro cent'anni di vita come pure del resto al rock cent'anni di vita ecco cosa vi volevo dire mi raccomando continuate a tenerci informati perché l'informazione oggi in italia è un punto cruciale della nostra salvezza noi diciamo dal nostro punto di vista come musicisti cerchiamo di dare il nostro meglio ma anche voi con l'informazione dovete farlo perché sapete benissimo che l'italia è oltre il 58esimo posto della graduatoria mondiale dell'informazione quindi bisogna che almeno la stampa musicale faccia il suo e che lo faccia bene voi già lo fate e vi auguro di continuare a farlo ancora per molto tempo a venire state rock e siate sempre ragazzacci